Oggi per prima cosa facciamo un teorema che sarà il teorema principale che ci servirà per il calcolo dei limiti cioè per il calcolo delle formule di Telo e di McLaughlin che poi serviranno per il calcolo di Telo cioè faremo la formula di Telo allora la cosa funziona è così allora la crema abbiamo una funzione F definita da diciamo un intorno di S con 0 da S con 0 meno F S con 0 più 0 a valore F poi supponiamo che F sia derivabile per ogni X appartenente all'insieme che per ogni H compreso vabbè, tra 0 ed N meno 1 quindi la funzione è derivabile N meno 1 o 8 la derivata zeresima si intende la funzione stessa poi supponiamo che esista supponiamo anche che le derivate queste qui siano continue quindi diciamo scriviamo meglio F appartiene a C N meno 1 di X con 0 meno del X con 0 più 0 possiamo scrivere così e poi supponiamo che esista la derivata ennesima di F nel più X con 0 queste sono le funte allora possiamo scrivere che F di X è uguale a F di X con 0 più F' di X con 0 per X con 0 più F' di X con 0 più F' di X con 0 f' di X con 0 più appuntini qui ci mettiamo la derivata ennesima della F nel più X con 0 fratto N fattoriale per X con 0 alla N più 1 piccolo di X con 0 alla N ora la derivata ennesima l'ho indicata una volta così una volta così ma penso che ormai si era abituato se vogliamo usare una un tiro qui in alto possiamo anche scrivere somma per K che va da 0 a N derivata a K della F fratto K fattoriale la derivata a K è valutata per X con 0 per X con 0 alla K più O piccolo X meno X con 0 va bene va bene questa è la espressione alla quale vogliamo aggiungere una ulteriore cosa che ti mostreremo sarà che se invece diciamo F se F è derivabile N più 1 volte nel punto diciamo in X con 0 meno delta X con 0 più delta quindi stiamo supponendo un po' di più allora per ogni X appartenente a X con 0 meno delta X con 0 più delta esiste un punto si tale che si meno X con 0 è minore di X meno X con 0 tale che nella formula precedente F di X è uguale a tale che continuo qui somma per K che va da 0 ad N derivata k di F nel punto X con 0 tra K fattoriale per X meno X con 0 alla K più ecco il resto questo si chiama resto della formula di T il resto mentre prima riusciamo a dimostrare genericamente che è un infinitesimo di ordine superiore a N per X che è X con 0 qua possiamo scrivere che sostanzialmente è della stessa forma di prima solo che deve essere valutato in questo punto quindi questa è la derivata N più unesima fratto N più uno fattoriale per X meno X con 0 questa è l'enunciata quindi già l'enunciata non è non è particolarmente difficile è soltanto che è un po' articolata adesso lo rivediamo lo rileggiamo dobbiamo capirlo bene allora noi abbiamo una funzione quello che vogliamo è che il punto dove vogliamo calcolare la formula di Taylor sia diciamo interno al dominio quindi vogliamo poter calcolare la funzione in tutto l'intorno di questo punto quindi per semplificare la cosa io ho preso direttamente un intervallo di centro X con 0 poi suppongo l'ho fatto anche ho scritto X con 0 meno delta X con 0 più delta per sottolineare il fatto che tutto quello che andremo a dire avrà un significato locale questa informazione qua diciamo noi abbiamo che la funzione si scriverà come un polinomio di grado N più un resto questo resto su questo resto abbiamo è chiaro che ogni cosa si può scrivere come diciamo se io prendo B posso scriverlo come prendo A posso scriverlo come A meno B più B posso sempre sottrarre qualcosa e poi riaggiungerlo la cosa importante è sapere delle informazioni su A meno B cioè sul resto allora l'unica informazione vera che abbiamo sul resto qui è che è un infinitesimo di per X che tende a sconservare di ordine superiore N cioè un'informazione di carattere locale quindi questo resto possiamo in qualche modo trascurarlo rispetto ad altre cose quando siamo molto vicini a X con 0 quindi questo è il tipo di informazione alla fine che otteniamo otteniamo una certa struttura per la F come un polinomio somma di anzi somma di vari pezzi pezzi di grado 0 pezzi di grado 1 pezzi di grado 2 pezzi di grado n che rispetto a X meno X con 0 sono proprio dei monomi di grado 0 1, 2, n più un resto che è un infinitesimo sempre per X tende a sconservare di copiare n inoltre se la funzione e questo lo faremo in ipotesi non sono proprio cioè diciamo le ipotesi in teorema sono sempre condizioni sufficienti affinché il teorema vado è difficile diciamo quando sono necessari sufficienti viene messo in evidente quindi però abbiamo in qualche modo cercato di limare le ipotesi il più possibile cioè la funzione è derivabile n-1 volte con continuità in tutto l'intorno e poi è derivabile un'ennesima volta solo nel punto X con 0 questa è l'ipotesi della prima parte del teorema in questa ipotesi noi riusciamo a ottenere che quella differenza con il resto è 1 piccolo di X meno X con 0 alla n se poi supponiamo qualcosa in più cioè che la funzione sia derivabile n più 1 volte essendo derivabile n più 1 volte qua non serve la continuità delle derivate perché se è derivabile n più 1 volte fino all'ennesima volta sicuramente sono continue perché sono derivabili quindi qui invece la derivata n meno unesima se non ce lo scrivo potrebbe non essere continua è chiaro se non ce lo scrivo qua le altre ovviamente essendo derivabili sono continue però insomma è l'ultima che potrebbe dare problema quindi se suppongo sostanzialmente l'esistenza di un paio di derivate in più perché da n meno 1 fino a n più non ci sono due derivate in più allora non solo posso scrivere la mia formula ma posso dare al mio resto una forma precisa più esplicita il mio resto sarà x x tende a x con 0 questo si diciamo fratto x meno x con 0 alla n tende a 0 poi qua c'è n più 1 fattoriale sotto e qui che cosa c'è? c'è la derivata n più unesima calcolata dove? non lo so questo dipende dalla diciamo dalla funzione vedremo che nel teorema l'unica cosa che potremmo dire su questo punto x è che possiamo sceglierlo compreso tra x con 0 e x compreso tra x con 0 e x è improprio perché va bene se x è maggiore di x con 0 altrimenti se x è minore di x con 0 devo dire compreso tra x e x con 0 un modo per dire la stessa cosa da tutte e due le parti è che la distanza di x da x con 0 è minore di xi da x con 0 è minore della distanza di x da x con 0 cioè xi in ogni caso è più vicino a x con 0 quindi è compreso tra x con 0 e x quando stiamo a destra oppure è compreso tra x e x con 0 quando stiamo a sinistra quindi questa è la struttura della formula ok? questa formula è di un'importanza vitale per fare calcoli per fare limiti per fare tutta un'altra serie una serie di cose ok dimostrazione allora facciamo così io chiamo P n-1 dovrei dire f x con 0 x all'inizio lo chiamo facciamo schieriamola così grazie a tutti 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 quali sono le proprie allora qui ho semplicemente sottolineato che questo dipende anche da f e da x con 0 però per una questione ci ho messo l'indice n-1 per sottolineare il fatto che è un poliniamo di grado n-1 poi semplicemente nel proseguo lo chiamerò P n-1 di x cioè non indicherò specialmente la dipendenza da f e da x con 0 che rimarranno fissi quindi è inutile appesantire la notazione ok quali sono le proprietà di questo polinomio allora cominciamo a calcolare P n-1 calcolato in x con 0 quanto fa? allora se scusate qua c'è K non è niente quindi in qualche modo l'avete detto bene prima se quella era n faceva veramente 0 ma se là c'è K invece che è n quanto fa adesso? allora mettete K uguale a 0 questo pezzo fa 1 0 fattoriale fa? 1 derivata a 0 della f chi è? ho detto prima f quindi nel polis con 0 il primo termine è f di x con 0 semplicemente abbiamo dovuto usare una convenzione se no questo termine lo dobbiamo scrivere a parte no? il primo termine vi ricordate? eccolo qua adesso adesso andiamo a fare la derivata prima di P con n meno 1 calcolata in x che dobbiamo fare? dobbiamo fare la somma per K che va da 1 a n meno 1 di facciamola allora di K f x con 0 di K f calcolato in x con 0 è una costante quando derivo la derivata di x meno x con 0 alla K K quanto fa? K per x meno 0 alla K meno 1 in K si semplifica con il K fattoriale sotto e qui mi rimane x meno 0 alla K meno 1 in generale se faccio la derivata achesima di P con n meno 1 calcolata in x questo vale somma per K che va da n meno 1 scusate da H fino a n meno 1 della derivata K pesima scusate di F in x con 0 fratto K meno H fattoriale per x meno x con 0 alla K meno H allora e questo vale per H che è compreso tra 1 o tra 0 e n meno 1 meritava ad esempio la derivata ennesima di P con n meno 1 calcolato inizio invece è nulla qua per meglio scrivere ci vorrebbero delle varie ok allora andiamo a verificare queste proprietà beh questo è banale perché quello è di grado n meno 1 un poliamo di grado n meno 1 se lo derivo n volte fa 0 no? quando un poliamo di grado 3 lo deriva 3 volte che è una costante ma la quarta derivata fa 0 adesso ritorniamo qui perché vale questa l'abbiamo visto ma voglio anche sottolineare il fatto che qua K parte da 1 perché il primo termine era la costante allora la derivata del primo termine è 0 quindi in quella espressione vale sì che la derivata del singolo pezzo ha il singolo pezzo ma vale anche il fatto che il primo pezzo era la costante quindi la derivata fa 0 e quindi è inutile scrivere K che parte da 0 anzi sarebbe impreciso perché qua K potrebbe se ci metto 0 diciamo l'esponente diventerebbe meno 1 e non va bene quindi qua K deve partire da 1 similmente quando lo derivo la seconda volta qua mi scende un K meno 1 che si semplifica con K meno 1 fattoriale e mi viene K meno 2 fattoriale sotto qua mi viene K meno 2 tutto il resto rimane uguale ma K partirà da 2 per quale motivo partirà da 2 perché i primi due termini erano il termine di grado 0 e il termine di grado 1 quando li derivo due volte il termine di grado 0 ha già sparito alla prima derivata e il termine di grado 2 sparisce il termine di grado 1 scusate sparisce alla seconda derivata quindi in generale quando ripeto questa operazione H volte non succede altro che qui mi scende l'esponente ogni volta più 1 quindi alla fine arrivo a K meno 1 qui avrò K meno H fattoriale perché K K meno 1 K meno 2 K meno H più 1 si sono semplificati ma ulteriormente devo far partire la somma da H perché tutti i termini di grado minore di H derivando H volte si sono annullati quindi questa è già una prima cosa che insomma non è difficile ma fateci un po' di attenzione perché se preferite vi faccio le prime derivate diciamo usando la scrittura per estensio però vi dovete anche diciamo abituare a derivare alla soppatoria dipendendo da alcuni indici ok allora adesso andiamo a valutare quindi le derivate intermedie nel punto di sconente va beh questa va 0 da per tutto la funzione nel punto di sconente faceva f di sconente la derivata prima del polinomio di scon 0 quanto fa? beh qui l'unica volta che il grado è 0 è quando k è uguale 1 quando k è uguale 1 questo alla 0 si intende 1 sempre per convenzione perché diciamo in 0 sarebbe 0 alla 0 che non è definito ma per convenzione si intende 1 1-1 fa 0 0 fattoriale fa 1 e cosa mi rimane una derivata prima di x con 0 e similmente la derivata a cheesima di p con n-1 calcolata in x con 0 fa la derivata a cheesima di f calcolata fino ad arrivare alla derivata n-1 di t con n-1 calcolata in x con 0 che fa la derivata n-1 di f calcolata in x con 0 quindi io ho preso un polinomio che ha sostanzialmente questa proprietà a grado n-1 le derivate nel punto x con 0 coincidono con la derivata di f fino all'ordine n-1 quindi coincide il valore della funzione diciamo il polinomio ha lo stesso valore della funzione nel punto in x con 0 la derivata prima ha lo stesso valore della funzione f nel punto in x con 0 la derivata seconda ha lo stesso valore che è una richiesta del tutto naturale no? se ci pensate tutta questa maratana che abbiamo fatto fino ad ora è in realtà del tutto naturale perché se allora lasciamo stare che diciamo qualcuno potrebbe aver notato che qui la formula vale fino a n non fino a n-1 però nella dimostrazione mi servirà questo polinomio fino al grado n-1 però in linea generale se io voglio approssimare una funzione con un polinomio è naturale che il polinomio diciamo vicino a x con 0 è naturale chiedere che il polinomio abbia lo stesso valore di f in x con 0 poi una volta che non posso siccome posso chiedere solo cosa in x con 0 una volta che ho chiesto questa informazione che ho imposto questa condizione cosa posso fare posso imporre qualche condizione sulla derivata prima altro non posso fare sto in un punto io di questa diciamo funzione cosa conosco so soltanto che è derivabile quindi nel punto x con 0 conosco solo la funzione derivata p derivata seconda derivata a chesima derivata n-1 e poi c'è altre cose che serviranno più tardi ma se voglio partire con un tentativo di approssimazione della funzione f con un polinomio la cosa più naturale di questo mondo è pretendere che questo polinomio abbia in x con 0 lo stesso valore della funzione lo stesso valore della derivata prima della funzione lo stesso valore della derivata della chesima della funzione fino al grado di quel polinomio cioè fino a n-1 dopo non posso pretendere più niente perché la derivata del polinomio mi farà sicuramente 0 ci siamo fino a qui quindi una volta che diciamo se voi prendete questa formula questa formula qui il polinomio soddisfa tutte queste condizioni qui viceversa se dovete soddisfare queste condizioni qui il polinomio deve essere fatto per forza così è evidente che si quasi può tornare indietro se prendo questo polinomio soddisfa queste condizioni se soddisfa queste condizioni è questo polinomio ci siamo fino a qui non c'è nulla di trascendentale ok quindi questo qui è un polinomio che diciamo abbiamo fissato e sarà ci servirà nella dimostrazione si di n di n-1 e di x o di x con 0 di x per quale motivo perché diciamo le altre le valvoli in x con 0 perché sono polinomi l'ultima in verità potrei anche mettere l'ultima x perché è già una costante quindi queste no variano quando x varia ma la n-1 l'ennesima e l'ennesima sono costanti e quindi le posso calcolare nella x che mi pare perché tanto va bene? ok quindi questa volta mi ha fatto piacere la domanda perché così vuol dire che uno sta cercando di mettere a fuoco la situazione va bene allora abbiamo fatto questa posizione adesso andiamo a fare il ragionamento che ci serve d'ora in poi per questione di semplicità supponso suppongo che x scusate sia maggiore di x con z suppongo di trovarmi alla destra di x con z ovviamente un discorso perfettamente analogo lo posso fare a sinistra in maniera tale che posso fare anche un disegno poi un'altra cosa che vado a considerare questa funzione phi di x o per la precisione dovrei dire phi n-1 x cioè la funzione f meno phi con n-1 x questa funzione ha la proprietà che phi n-1 x con 0 vale 0 poi che la derivata a chesima di phi n-1 calcolato in x con 0 vale 0 per h compreso tra 0 e n-1 perché è semplicemente la differenza di queste queste avevano lo stesso valore e la stessa derivata e quindi la differenza avrà tutti i valori i valori delle derivate tutti i nulli fino a n-1 ok va bene allora io scrivo f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0 ma questo lo posso anche scrivere così lo posso scrivere come phi di x vediamo un po' posso scriverlo come scusate qui devo scrivere fratto x meno x con 0 ho sbagliato allora andiamo a scrivere io cosa voglio dimostrare io voglio dimostrare riscriviamo quello che voglio dimostrare io voglio dimostrare che il limite per x che tende a x con 0 di f di x meno p con n di x fratto x meno x con 0 che questo sia uguale a 0 ok p con n di x è esattamente lo stesso polinomio di prima soltanto portato fino al grado n era la formula di Taylor fino al grado tratto x meno x con 0 alla n se vi ricordate io questo qua è come dire che f di x è uguale a p con n di x più o piccolo dire questo e dire questo è la stessa cosa va bene questo è quello che abbiamo scritto nella tesi del teorema e che è equivalente a dimostrare che questo limite fa 0 ok a bene allora prendiamo come funzione a filiare questa qui quindi scusatemi ma prima dovevamo arrivare fino al grado n ok ok è pure più semplice la notazione va bene cancelliamo facciamo qui va fino a n qua va fino a n qua ci deve mettere n più 1 qua ci metto h che va da 0 a n poi ci metto in verità qua il motivo per cui ho messo il piccolo n meno 1 si capirà tra poco questo in x fa 0 comunque la derivata n meno unesima di di buon n calcolato in x quanto fa? mi interessa questa mi interessa perché se le andate a derivare basta qui sostituire n meno 1 e allora quanto viene quando qui si si allora k va da n meno 1 qua ci devo mettere n meno 1 k meno n più 1 quindi il primo termine qua se ci metto k uguale a n meno 1 n meno 1 meno n più 1 fa 0 quindi questo pezzo non c'è quindi qua ci devo mettere n meno 1 pure n meno 1 meno n meno 1 fa 0 quindi viene 1 quindi mi viene derivata n meno unesima della f in x con 0 più l'altro termine quando k uguale a n qua rimane 1 qua rimane 1 fattoriale che fa 1 e quindi viene derivata nesima della f in x con 0 per x con 0 quindi lo vado a scrivere qui quindi non è altro che l'esercizio precedente diciamo abbiamo messo n al posto di n meno 1 ma oltretutto ho voluto calcolare la penultima derivata in maniera esplicita torna tutto perché adesso il polinomio è di grado n la derivata n meno unesima deve essere un polinomio di grado 1 così come la derivata nesima questo sarebbe è ovvio qua viene questa costante derivando questo viene questa costante ma la derivata nesima di f calcolata in x con 0 però effettivamente è questa costante poi dalla derivata n più unesima e poi invece ovviamente essendo il polinomio di grado n fa tutto 0 allora lo ripeto il polinomio l'abbiamo preso uguale all'approssimazione di t l'abbiamo preso di grado n quindi quella forma l'abbiamo presa fino a n abbiamo riverificato quello che già sapevamo cioè che le derivate fino al grado n coincidono con le derivate della funzione di x con 0 ma ulteriormente abbiamo voluto esplicitare la penultima derivata la penultima derivata ovviamente è un polinomio di grado 1 ed è questo polinomio di grado 1 qua la derivata nesima è questa costante qua la derivata n più unesima è 0 allora torniamo alla dimostrazione adesso la dimostrazione consiste nel dimostrare che questa differenza è un infinitesimo di ordine superiore a n la f meno la sua approssimazione fratto x minus con 0 a n deve tendere a 0 o lo scrivo così o lo scrivo così è la stessa cosa quindi siccome quella differenza io l'ho chiamata figo n andiamo a scrivere figo n il numeratore di quella differenza andiamo a scrivere figo n di x fratto x minus con 0 alla n allora anzi facciamo tutti i passaggi f di x meno figo n di x fratto x minus con 0 alla n è uguale a figo n di x fratto x minus con 0 alla n questo perché semplicemente il numeratore l'ho chiamato figo n di x poi questa funzione che proprietà che il valore del punto x con 0 vale 0 quindi io posso scrivere figo n di x meno figo n di x con 0 fratto x minus con 0 alla n adesso c'è il punto chiave del teorema qui ho questa funzione di sotto pure lei in 0 vale 0 in x con 0 vale 0 perché se ci mettete x con 0 qua viene x con 0 x con 0 che fa 0 0 alla n quindi volendo proprio spaccare il capello in quadro qua ci possiamo scrivere x con 0 x con 0 alla n meno x con 0 x con 0 alla n meno x con 0 meno x con 0 alla n questa qui è una banalità semplicemente perché sia questo che questo fanno 0 quello di numeratore fa 0 per costruzione il denominatore insomma questo pezzo qui del denominatore è chiaro che fa 0 basta guardate uguale a questo punto cosa abbiamo? noi abbiamo un rapporto che è un rapporto al quale possiamo applicare il teorema di Cauchy cioè abbiamo se questa per un attimo la chiamate di nuovo f ma non è la f di b e questa funzione la chiamate g avete f di x meno f di x con 0 fratto g di x meno g di x con 0 è chiaro? quindi e che cosa dice il teorema di Cauchy? il teorema di Cauchy dice che esiste un punto che chiamerò x con 1 in cui se voi avevate f di b meno f di a fratto g di b meno g di a questa era uguale a f primo di x fratto g primo di x in un punto di termine queste non sono la f la f non è la stessa di b sto solo ricordando l'enunciato del teorema di Cauchy allora la f è la nostra fi fi n la g di x è questa funzione qua e xi siccome xi me lo dà il teorema di Cauchy siccome il teorema di Cauchy lo dovrò applicare altre volte xi lo chiamo xi con 1 quindi andiamo a scrivere questo è uguale a f n primo oppure scriviamo derivato di fi con n calcolato in xi con 1 fratto g primo chi è g primo? se g di x è uguale a x meno x con 0 alla n g primo di x è uguale a n per x meno x con 0 alla n meno 1 poi la devo valutare in xi con 1 e quindi qua mi viene n per xi con 1 meno x con 0 alla n meno 1 meno 2 ma io adesso cosa faccio? va bene questa funzione se l'avate a valutare in x con 0 si annulla un'altra volta la funzione di sotto sarà valuta in x con 0 oppure si annulla quindi se qua ci metto la funzione di sopra valuta in x con 0 la funzione di sotto valuta in x con 0 il rapporto non cambia e quindi posso applicare il teorema di coscire un'altra volta cosa otterrò? otterrò un punto che chiamerò xi con 2 il primo punto x con 1 era compreso tra x con 0 e x il secondo punto x con 2 sarà compreso tra x con 1 tra x con 1 da destra e x con 0 da sinistra quindi qui avrò derivata seconda di fi n calcolato in xi con 2 fratto n derivo un'altra volta n-1 poi lo vado in x con 1 e mi verrà xi con 2 meno x con 0 alla n-1 ho applicato stavolta il numeratore era la funzione d fi con n di x il denominatore era la funzione n x meno x con 0 alla n-1 ho applicato nuovamente fauchì con il numeratore questo il denominatore questo e su quale intervallo l'ho applicato? non l'ho applicato più sull'intervallo x con 0 x ma l'ho applicato su questo intervallo qua allora cosa devo scrivere su questo intervallo? f di b f di b meno f di a ma f di a fa 0 quindi non si scrive fratto g di b meno g di a g di a fa 0 quindi posso non scriverlo uguale uguale f primo su g primo in un nuovo punto x con 2 allora fate la derivata di questo e viene la derivata seconda di if con n poi la dovete valutare in x con 2 fate la derivata di questo e vi viene n per n-1 per x meno x con 0 alla n-2 valutatelo in x con 2 e avete finito avete applicato nuovamente cosciutto ok allora se io continuo così e lo applico h volte arriverò a sopra mi verrà la derivata a cheesima di f con n in x con 2 sopra mi viene n per n-1 per n-h più 1 per x meno x con 0 alla n-1 uguale fin dove continuo il teorema lo applico n-1 volte e quindi teorema di cosciutto posso farlo fin quando allora tutte queste funzioni qui al denominatore fin quando questo esponente positivo in x con 0 fanno tutte 0 e quindi posso continuare al numeratore pure perché in x con 0 sono diciamo la f con n ha tutte le derivate nulle nulle fino all'ordine unnesimo quindi io potrei applicare questo teorema anche una volta in più ma comunque applichiamolo fino a n-1 volte se lo applichiamo a n-1 volte e qua mi esce la derivata n-1 di f con n valutata in x con n-1 dobbiamo derivare n-1 volte quindi qua mi viene n per n-1 se ci fate caso qua mi viene n per n-1 perché h è uguale a n-1 n-n-n-1 fa 1 più 1 che ci sta fa 2 ma il prodotto dei numeri da 2 fino a n è esattamente n fattoriale ci mancherebbe 1 ma 1 a produrre fa 1 quindi e quello che rimane è x-0 ok? quindi adesso voi ce l'avete scritto sul quaderno io qui l'ultima riga ho bisogno di cancellarne un pezzetto io cosa ho dimostrato? ho dimostrato lo scrivo un po' più centrato così si vede meglio io ho f di x meno pi con n di x fratto x-0 alla n questa è la quale a pi con n di x fratto x-0 alla n ed è uguale allora la derivata n-1 è la derivata n-1 di f calcolata in x ricordatevi che questa era f-p con n adesso ci devo scrivere la derivata n-1 di p con n o almeno davanti ma la derivata n-1 di p con n me la ero calcò quindi qua ci viene meno la derivata n-1 di f calcolato in x con 0 meno la derivata n-1 di f calcolato in x con 0 tutto fratto x-0 per n fatto? e a questo io fin qui non ho sfruttato solo la derivata n-1 di f calcolato in x con 0 diciamo di derivabilità fino all'ordine non l'ho sfruttato altro adesso questa quantità la posso scrivere anche così quindi questo pezzo qui la posso dividere per il denominatore e la posso scrivere meno derivata n-1 di f calcolato in x con 0 fratto n-1 di f calcolato in x con 0 adesso fate tendere x a x con 0 fate tendere x a x con 0 che succede? scusate, questo era uguale qua ci devo mettere non x ci devo mettere x con n-1 qua c'era x con n-1 e anche qui c'era x con n-1 allora ho semplicemente ricopiato quello che tenevo se volete vi riscrivo come stava prima e vi rifaccio il passaggio se no questo era meno derivata n-1 di f in x con 0 per x con n-1 meno x con 0 allora vi ricordate alla fine dei qualsaggi il tutto lo devo valutare in x con n-1 allora la derivata n-1 è n-1 della f è uguale alla derivata n-1 della f valutata qui l'altra derivata la derivata del polinomio era questa costante più questo pezzo ci metto il meno davanti e l'ho messo a numeratura adesso faccio tendere x a x con 0 ovviamente siamo dalla parte destra quindi x tende a x con 0 dalla parte destra in particolare anche x con n-1 tende a x con 0 da destra no? quando x tende a x con 0 x con n-1 che sta in mezzo deve per forza pure lui tendere a x con 0 ovvero sia diciamo quando x sarà compreso tra x con 0 e x con 0 più sigma anche x con n-1 sarà compreso tra x con 0 e x con 0 più sigma x con n-1 distra da x con 0 meno x quindi che succede? che posso fare il limite quando x con n-1 tende a x con 0 ma questo qui chi è? quando x con n-1 tende a x con 0 allora uno potrebbe dire ma x con n-1 non era fisso? no! x con n-1 da chi dipendeva? quando abbiamo applicato la prima volta il teorema il teorema l'ho applicato all'interfallo x con 0x quindi x con 1 dipendeva da x poi x con 2 dipendeva da x con 1 che dipendeva da x quindi in ultima analisi x con 2 pure dipendeva da x e così via quindi quando io sposto verso sinistra x automaticamente x con 1 x con 2 x con n-1 dipendendo da x si spostano pure loro a sinistra non è che diciamo possono fare altrimenti e quindi quando x tende a x con 0 anche x con n-1 deve per forza tendere a x con 0 non è il rapporto incrementale della derivata n-1 vabbè c'è questa costante ma questa costante ce la conserviamo perché le costanti passano fuori rispetto a lì e questa cosa tende? tende alla derivata ennesima di f alla derivata della derivata n-1 ma chi è la derivata della derivata n-1? è la derivata ennesima fratto n fatto? e l'altro pezzo? l'altro pezzo è proprio la derivata ennesima fratto n fatto? fattoriale semplificate il pezzo lineale quindi ovviamente la differenza allora questo tende a questo questo è uguale a questo e allora la differenza tende a 0 è chiaro? se volete l'altro pezzo si poteva fare facendo un ulteriore passaggio come stavo facendo prima meno derivata ennesima di f di x con 0 fratto n fattoriale allora questo tende alla derivata ennesima di f di x con 0 fratto n fattoriale e quindi la differenza tende a 0 che è quello che volevamo dimostrare che è quello che volevamo dimostrare adesso abbiamo dimostrato la prima parte del teorema se vi ricordate c'era una seconda parte per dimostrare la seconda parte noi eravamo arrivati qui è la fi con n meno 1 derivata enne meno unesima di fi con n di x calcolato nel punto si con n meno 1 fratto n e poi invece di proseguire avevamo fatto un limite adesso facciamo applichiamo il teorema un'altra volta quindi applichiamolo un'ulteriore volta quindi qua cosa mi verrà mi verrà la derivata ennesima questo perché la posso applicare ancora perché la derivata enne meno unesima di fi con n in x con 0 vale 0 quindi applichiamolo un'ulteriore volta e mi viene derivata ennesima di fi con n calcolato in x con n fratto ecco adesso quando vado a derivare un'ulteriore volta qua mi esce semplicemente n fatto fattoriale adesso se l'andate a scrivere questo non è altro che la derivata ennesima della f calcolata in x con n meno la derivata ennesima della f calcolato scusate ho sbagliato nel senso che qui non devo modificare solo quello che sto scrivendo è giusto ma non devo modificare solo l'ultima parte solo il numeratore modifichiamo anche il denominatore qua partiamo da n più 1 se parto da n più 1 qua mi viene quadrato e qua mi viene il prodotto n più 1 fino a 3 quando lo applico un'ulteriore volta mi viene n più 1 fattoriale e qua mi rimane si con n meno il quadrato perché devo fare n più 1 meno n meno 1 che fa 2 più 1 che fa 3 e se tu hai partito da n e arrivi da 2 il quadrato lo ricordi? se partiti a n più 1 arrivi fino a 3 quindi è esattamente lo stesso procedimento soltanto che la denominatore si prendeva un esponente in più allora poi potevamo fare anche un passaggio in più perché in realtà poi potevamo fare ancora un passaggio in più perché ancora f con n nel punto x con 0 la derivata ennesima di f con n nel punto x con 0 faceva 0 se vi ricordate quindi qua posso scrivere derivata ennesima di f con n valutato nel punto x con n più 1 e sotto che ci devo scrivere basta n più 1 fattoriale sotto lo devo considerare la funzione n più 1 fattoriale per x con x con 0 la derivo rispetto a x fa n più 1 fattoriale e allora cosa ho scoperto? lo scrivo in questo riguadro qui ho scoperto oh questa qui chi è intanto? questa qua è la derivata n più 1esima della f e basta perché è la derivata n più 1esima della f? perché la f con n era la f meno un po' il minimo di grado n quindi quando la derivo a n più 1 volte la derivata della f rimane l'unica differenza rispetto a prima è che devo supporre che la f sia derivabile fino all'ordine n più 1 invece la derivata di p con n scompare perché stavolta il p con n non vogliamo di grado n l'abbiamo derivato n più 1 volte e quindi scomparsi e quindi alla fine cosa possiamo scrivere? possiamo scrivere che f di x è uguale a derivata n più 1esima della f calcolata nel punto l'abbiamo chiamato x con n più 1 per x meno x con 0 alla n più 1 stavolta è x perché x stava a sinistra quindi più una volta che prendiamo questo e lo portiamo a destra poi c'è la fratta n più 1 fattoriale qua questo per quel pezzo che stava a sinistra l'abbiamo portato a destra più p con n di x che stava a sinistra e adesso lo portiamo a destra con l'u che è esattamente la formula che volevo dimostrare quindi era f era il suo diciamo veniva data come somma di due pezzi il suo poniamo di telo più il resto mentre prima avevamo soltanto dimostrato che quando l'u x meno 0 alla n tendeva a 0 stavolta il resto ho trovato un'espressione esplicita per il resto che non è altro che la derivata nel più 1esima della f calcolata in un punto adesso io questo punto l'ho chiamato x con n più 1 ma potete anche chiamarlo x e basta perché l'unica cosa che io so di questo punto cos'è? è che x è compreso tra x con 0 e x questi punti vabbè io l'ho fatti con una certa spaziatura ma potevano stare tutti molto vicini a x molto vicini a x con 0 ogni volta però so che quando passo da un punto al successivo mi devo spostare verso sinistra e quindi rimango sempre nell'intervallo x con 0 x quindi alla fine il mio xi sarà nell'intervallo x con 0 x e quindi abbiamo ottenuto questa espressione se facevamo il discorso da sinistra ottenevamo la stessa espressione semplicemente tutte le disuguaglianze erano rovesciate e quindi il punto xi invece di essere compreso tra x con 0 e x sarebbe stato compreso tra x e x con 0 basta il telema è dimostrato quindi abbiamo dimostrato il telema in tutte e due le varianti allora se ci fate caso se ci fate caso quale ipotesi abbiamo utilizzato in effetti nella prima variante abbiamo utilizzato il fatto che la funzione fosse derivabile n-1 volte all'intorno del punto e un'ennesima volta all'intorno del punto il fatto che quindi diciamo per fare l'ultima derivata l'ultima derivata l'avamo fatta come limite vabbè l'ho cancellato ma l'ultima derivata è stata fatta come limite quindi non applicando il telema di Cauchy quindi quell'ipotesi che ho messo che la funzione fosse di diciamo che l'ultima derivata la n-1 nella prima variante fosse continua non serve neanche così diciamo quando stavo a scrivere l'ipotesi mi sembrava di essere vista allora ce l'ho messa per essere sicuro ma in realtà non serve invece nella seconda variante mi servono le derivate fino all'ordine n-1 e non solo nel punto quindi attenzione guardate la differenza se io voglio scrivere il resto allora le scriviamo esplicitamente così io ho ottenuto due formule e adesso le riscriviamo io ho questo faccio osservazione e poi faccio una pipoca allora io ho ottenuto questa formula qui allora vi ricordo chi era il t con n t con n di x era la somma del k che va da 0 a n derivata k della f calcolata x con 0 fratto k fattoriale per x meno 0 alla k allora io ho ottenuto questa formula qui f di x uguale p con n di x più o piccolo di x meno x con 0 alla n per ottenere questa formula questa qui si chiama formula di Taylor formula di Taylor per la funzione f nell'intorno del punto x con 0 con resto in forma di beano allora per dimostrare questa formula io ho usato il fatto che la f fosse derivabile n meno 1 volte e che avesse la nesima derivata ma solo nel punto x con 0 questo era quello che mi bastava per dimostrare questa formula l'altra era p con n di x più derivata n più unesima della f in un punto x fratto n più 1 fattoriale per x meno 0 alla n più 1 dove io so che x meno 0 è minore x meno 0 e questa qui si chiama formula di Taylor con resto in forma di Lagrangio allora per dimostrare questa formula mi servivano due derivate in più nel punto sconserva solo 1 in più ma negli altri punti me ne servono due in più perché prima lo supposto la derivabilità fino all'ordine n meno 1 per dimostrare questa formula mi serve la derivabilità fino all'ordine n più 1 e mi serve in tutto l'intorno perché altrimenti non posso obbligare coscire ok quindi la prima è forma di piano la seconda è forma di Lagrangio la seconda è notevolmente più precisa per qual motivo? perché mi dice mi dice che almeno per praticamente tutte le funzioni queste più precise nel senso che mi dirà che questo diciamo supponiamo che questa derivata si mantenga limitata perché si che tende a x con 0 allora questa qui si mantiene limitata questo diciamo diviso x con n x meno x con 0 alla n si comporta come x meno x con 0 quindi quella non solo è un infinitesimo di ordine superiore alla n ma mi dirà che è un infinitesimo in tutti i casi concreti di ordine n più ma non solo io posso stimare questa quantità qui si chiama resto ennesimo questo resto ennesimo da che dipende dalla funzione da x con 0 da x quindi il resto ennesimo qui non lo posso stimare esplicita lì lo posso stimare esplicita esplicitamente ok vediamo un po' se è ora ok possiamo ci muovere questo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti